Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace Grazie Diletta Leotta ha celebrato un doppio compleanno davvero speciale, festeggiando sia il suo trentatresimo compleanno che il primo compleanno della sua piccola aria, nata esattamente lo stesso giorno. La conduttrice sportiva ha condiviso con i suoi follower su Instagram i momenti più belli della giornata, con scatti che mostrano la gioia della sua famiglia e degli amici più cari. Il party, organizzato in Sicilia, è stato un'esplosione di dolcezza, con una torta rosa più piani e un arco decorato con il nome di Aria. Diletta ha espresso tutto il suo amore per la figlia con un affettuoso «Auguri amore mio» nelle sue storie su Instagram, accompagnato da immagini che ritraggono Aria felice in braccio ai nonni, circondata dai suoi amichetti, e momenti di tenerezza con papà Loris Carius. Il portiere tedesco, solitamente molto riservato sulla sua vita privata, ha sorpreso i fan con una dedica dolcissima su Instagram, esprimendo tutto il suo amore per le due donne della sua vita. In una foto, Carius ha scritto, «Ho trascorso una giornata meravigliosa festeggiando il primo compleanno della mia piccola principessa Aria e quello della mia meravigliosa moglie. Papà vi ama tantissimo». Queste parole, insieme a un cuore rosso, hanno fatto emozionare i fan, che hanno riempito la coppia di affetto e auguri. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.